Slitta il taglio degli alberi dei giardini pubblici di via Baracca infestati dal tarlo asiatico. Le operazioni in programma a partire dal lunedì prossimo sono state sospese dopo che il capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Belgiorno, ha non soltanto presentato una interrogazione ma ha anche chiesto di portare la questione in commissione ambiente. Commissione fissata in un primo momento per mercoledì, data ritenuta inutile e così l'assessore Cristina Sanzò ha bloccato tutto. Ho rispetto delle istituzioni e di ogni ruolo il suo commento. È giusto informare la commissione, programmeremo il taglio per i prossimi giorni. Belgiorno era già pronto a sparare a zero e a puntare il dito contro la scarsa trasparenza degli atti e contro la mancanza di rispetto per i commissari di minoranza. Cinque giorni fa la città ha preso la notizia dall'assessore Sanzò che sarebbero stati tagliati 46 alberi ai giardini di via Baracca, una notizia che subito ha allarmato tutti i residenti e le persone che frequentano normalmente quel parco. Questa marcia indietro del comune a mio avviso è stata un atto dovuto e giusto perché mercoledì noi chiederemo all'assessore di vedere tutti gli studi che sono stati fatti e di come mai siamo arrivati a questa decisione e capire meglio anche questo parassita se si è anche divulgato nei giardini vicini perché giravoce e anche nei giardini accanto ci sia lo stesso problema ma la cosa più importante è capire quando il comune si è accorto di questo problema. C'erano già state delle segnalazioni da quanto è stata presa visione di questa problematica e a quanto risulta presa un'azione per combattere questo parassita. La regione ha dato 30 giorni di tempo al comune per abbattere gli alberi una prescrizione che non può essere disattesa. Capire, analizzare gli studi e soprattutto prendere visione se ci sono anche altre soluzioni per contrastare questo parassita perché nessuno vuol difendere assolutamente questo parassita che danneggia il nostro ambiente quindi sicuramente va combattuto con ogni mezzo.